salve oggi vorrei parlarvi di un piccolo progetto fatto da un artista si chiama mac vague adesso è stato assunto dalla lego quindi non vende più i set sul suo sito come faceva una volta però ha lasciato per chi vuole i progetti per poi montarseli costruirsi lì da solo vi faccio vedere in che modo se andate sul suo sito vedete ci sono varie tipologie andate su tech come vedete ci sono anche altre console se vi interessano sempre più o meno della stessa tipologia cliccate sul come 64 a questo punto vi si apre proprio il progetto le istruzioni con l'elenco dei pezzi potete vedere ci sono tutti purtroppo non ho trovato magari c'è un file di testo da usare direttamente su bricklink e quindi me lo sono dovuto fare a mano inserendo tutti i pezzi della lista di bricklink una roba non esagerata per chi non conosce bricklink è questo sito di compravendita stile ebay dedicato esclusivamente a elego io ho creato una lista e se cliccate sul tasto ebay una volta avete messo i pezzi lui vi trova gli store che vi fanno risparmiare per comprare tutti i pezzi se riesce vi trova anche un sito unico evidentemente in questo caso non ce la fa a me tutto compreso è venuto all'incirca 35 40 euro compreso due spese di spedizioni perché sono stati due store diversi però per quanto mi riguarda nel varsalapena perché è molto carino torniamo un attimo così ve lo faccio vedere come vedete il progetto è davvero bello ce ne sono diversi questo sia è la adore edition all'ultima che lui ha realizzato prima di chiudere tutto molto rifinita con un frontale più pulito rispetto ai precedenti come vedete ci sono anche le prese posteriori e soprattutto se togliete la tastiera che è veramente a livello di progetto è super ingegniosa ha proprio costruito all'interno un circuito del commodore 64 cioè è andato il più possibile nei dettagli è un set molto piccolo il frontale sono 16 blocchi ok adesso credo di aver rotto tutto 16 blocchi ma è davvero splendido ho spinto troppo e ho rotto l'aggancio credo va bene non lo sistemo l'avevo scoperto perché mi ero andato a cercare questa cosa e voglio farvela vedere che è un brits t4 cioè un commodore 64 1 a 1 funzionante con all'interno un vero commodore 64 ma quando sono andato a ordinarmi i pezzi allo stesso modo di come ho fatto con questo non bastano 800 euro però è veramente meraviglioso se lo faccio vedere velocemente è finito se ci riesco eccolo qua è veramente delizioso veramente una meraviglia però a comprarlo a pezzi è assolutamente difficile io spero che vi faccia piacere anche parlare di questi piccoli set amatoriali insomma molto custom perché per esempio avevo comprato anche la macchina di south park da inserire nel set quello grande di giurassi park quello col dinosauro e magari vi interessa insomma per quello però il progetto lo avevo dovuto comprare mentre questo lo sono fatto c'è il progetto era online mi sono dovuto fare solo la lista dei pezzi magari se qualcuno è proprio interessato potrei anche passargli la lista dei pezzi non credo sia un problema vi ringrazio tanto fatemi sapere se vi interessano questo tipo di set così magari in futuro se ne torna a parlare grazie mille grazie a tutti